Mini nascondino al mare, mappa creata da Eni, quindi preparati fare perché qua ci si diverte Allora, tu vedi un posto gigantesco, ma in realtà siamo delimitati, se vieni un pochettino più in qui, da dei blocchi invisibili Quindi in realtà, fino a dove si può arrivare, comunque è tutto bello limitato Abbiamo perlomeno un pochettino tutto questo fiume, fino a leggermente dopo quel ponte che vedi lì L'altra parte della spiaggia, delimitata più o meno al stesso modo come era questa parte E più o meno questa è la zona dove noi ci possiamo nascondere Abbiamo un ambiente, non so se sei notato, molto da tramonto, quando stai per andare via dal mare Ma c'è finalmente quel freschettino dove si sta un po' bene E quindi ci rimani perché finalmente stai bene e non ti stai più squagliando dal caldo Quindi rimani lì a rilassarti fino alle nove di sera Esattamente, quindi questa è l'atmosfera che avremo oggi Mini nascondino non lo facciamo da un bel po' Sì, da tantissimo Quindi non vedevo l'ora di rifarlo E secondo me così all'aria aperta non sarà neanche semplice nascondersi Perché comunque, anche se diventiamo piccoli, non è che ci sono tutti questi nascondigli Bisogna ingegnarsi bene Stavo guardando un pochettino in giro, secondo me saremo sempre parecchio visibili Anche secondo me Ultima cosa e poi partiamo Mi ha detto Eni che ha nascosto comunque delle ceste in giro Con diciamo dei potenziamenti per nascondersi Quindi ci sarà anche quello mentre ti nascondi Interessante, interessante Va bene, allora ti vuoi nascondere o vuoi cercare? Cerco, vai a nasconderti Ma io ho sempre uguale, guarda Perché così poi ho tempo di guardare i miei nascondigli Eh ma fai sempre la stessa tattica E lo faccio figuracce Ciao Stef, vai Sono già nell'albero a non guardarti Quindi muoviti per favore Tu sì che sei furba Tantissimo, muoviti Ok Non sarà semplice in effetti, eh Non sarà per nulla semplice Io ho guardato un pochettino la zona Ma è tutto molto aperto Ok, c'è qualcosina Ma non mi è sembrato di vedere qualche nascondiglio molto, molto importante Cioè, boh, non lo so Anche secondo me E allora, aspetta Quanto ci mettiamo di timer? Tre minuti, può andare bene? Oh sì, dai Vero? La zona non è troppo grande Esatto 3, 2, 1, via Ma ti devo colpire con la spada? Sì cara Ok Non hai altro Cioè, se mi vuoi proprio uccidere Eh, se no puoi risparmiarmi e lasciarmi in vita Non lo so, vedremo Dipende un pochettino da te, insomma Alla fine puoi fare un po' quello che preferisci Ok, com'è il feeling nel cercare? Cioè, sei preoccupato o sembra molto semplice controllare le cose? Non lo so Allora, non sembra troppo difficile, ok? Ok Perché sembrano tutte cose molto aperte Poi non lo so, magari c'è qualcosa che mi sfugge, quindi Ok, ok, perfetto Poi la tua skin è scura Quindi secondo me Si può nascondere molto, molto facilmente La mia è che fucsia Nel giallo della sabbia, capisci? Mhm Mhm, capisco Ti sono già passata vicino, ora Perché? Perché stai facendo voci strane No, Fede Semplicemente sto pensando A dove cavolo potrebbero essere le ceste nascoste Perché sinceramente ho guardato un pochettino in zona Più che pensare a nascondermi Io stavo cercando già le ceste per prendermi vantaggio No, ma neanche io ne ho vista una E sinceramente non ne ho visto E quindi ero lì che riflettevo Ma dov'è? E quindi mi stavo riguardando un attimino intorno Nel possibile del mio nascondiglio Per vedere se la trovavo Però, sai, ho un indizio Te lo dico anche a te perché secondo me è equo Da quello che ho capito, nelle ceste Ci dovrebbero essere delle pozioni per respirare sott'acqua Perché così noi possiamo nasconderci respirando sott'acqua nel fiume Che è una figata Quindi magari le ceste, in effetti non ho controllato Sono proprio nel fiume Però, non ho idea Tu comunque pensa a cercarmi perché altrimenti poi perdi In giro non li ho trovate Quando ti devi nascondere però ricordati di cercarle un po' Ok? È passata la metà del tempo, cara Lo so, non ti trovo Questo 1 a 0 lo farei volentieri Allora, io oltre qua non posso andare In onore delle salle Questa è la prima volta che andiamo al mare Quest'anno Davvero Ce l'abbiamo Quanto sarà in macchina? 5 minuti o 7 minuti da noi? Dai no, forse una decina Una decina di minuti da noi Se conti che devi cercare il parcheggio E lì non c'è mai Almeno guarda un'ora E vabbè, ma questa è drastica Però abbiamo al mare a 10 minuti E non siamo andati neanche una volta Vabbè, penso si veda C'è troppa gente C'è troppa gente, non ci piace proprio Ok È troppo affollato Due minuti passati Bella mappa fatta da Eni comunque Mi piaciuta Bella, molto carina, molto Una bella location Soprattutto perché Ferre non mi sta trovando Ma infatti Uff E ti sei cacciato Beh Ferre, non sembra Ma ci sono tanti nascondigli interessanti comunque Quindi Devi continuare a controllare bene, bene, bene 40 secondi Mi sta venendo un'ansia Oh niente Non riesco a vederti Poi secondo me non sei andato troppo lontano Perché hai fatto veloce Quindi probabilmente sei in zona ma mi sfuggi Secondo me sei in mezzo a qualche tipo bottiglia 30 secondi Siccome hai lo stesso colore non ti vedo 30 secondi Oh non ti vedo Steph, non lo so 20 secondi Che paura Che paura Sei qui in zona però, vero? Sì Dai Ormai puoi uscire fuori 15 Sicura? E beh sono passati dai, non ti vedo Avevi capito Mi vedi? Ma sei qui da ora Nell'altro Ce ne sono due Aspetta Lo sapevo che ti vedo Allora ogni volta che tu passavi Sono davvero piccolo comunque Cavolo no Ogni volta che tu passavi Io facevo così Nelle varie bottiglie E quindi non mi vedevi Perché mi mettevo sempre Cioè tu tipo eri lì Mi mettevo qua Tu eri lì Mi mettevo qua E infatti era impossibile Cioè perché sei Allora non mi aspettavo che tu fossi così tanto piccolo È bene Cioè un po' più grande Ma leggermente In una mappa con così pochi nascondili Eh lo so però cavolo Anche tu Steph ti ci sei messo È bene Devo fare 1 a 0 1 a 0 Ok Allora Me le vado via per contare E puoi iniziare già a nasconderti Tanto non sto già guardando Mi metto qua Attaccato così Quanto vorrei trovare con le cestu Le cestu non le metto Voglio vedere se le trovo Ok Ti lascio non troppo tempo Che non c'ho voglia di fissare il tramonto per sempre Però aspettate Il tramonto ce lo guardiamo Ah guardate che bello qua Oh yes Niente vero? Io le ho cercate un sacco Non le ho proprio viste Ma sono Allora sono segrete o si vedono? Lui mi ha detto che sono nascoste bene Mi ha proprio scritto Sono ben nascoste Perché danno appunto la pozione di briefing E quindi Sai ti permette di fare Sì ho capito 100 nascondili in più Però esagera sempre Con questo ben nascosto Oppure sei tu particolarmente scarsa A trovare le cose Io? Questa secondo te è una cesta? Non posso guardare il tuo schermo Trovata Trovata? Ce ne erano addirittura due Ma le tengo tutte e due Ma era un due cesta o una cesta? Eh Era una cesta con due pozioni Ok Non so se magari è una pozione di testa Ma tiretele entrambe A sto punto Vuole sfruttare Il suo upgrade Per andare sull'una 1 Forse la signorita Ma anche se sotto a questo Cioè ti dico la verità Steph non ci sono nascondiglie Quindi non è che sia molto semplice Beh fai quello che vuoi Aspetta Adesso devo cercare Nascondigli Eh lo so Io sto aspettando Allora Allora Stai vedere un pochettino Fino dove arriva sta zona In questo momento Eni Mi ha appena scritto Che gli è partito internet E ci sta preparando una mappa Cosa ha levato Eh questa mappa è bella Questa mappa è bella Ha levato una mappa Fighissima da fare Però l'ha morto internet Quindi ripeni Quando guarderai questo video Allora Fere Ce la facciamo? Sì aspetta 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 Devo raggiungere il posto Ok vai Vado? Allora secondo me È stata una pessima idea Ok? Ok Però vabbè Ormai è andato Ma tu ogni volta lo dici Perché io così Non attivo il radar Per trovare Fere E poi tra una cosa e l'altra Ti fai sempre il tuo punto No no secondo me è pessima Perché Vabbè Ovviamente sono andata Sott'acqua Ma ho notato Che non ci sono nascondigli Quindi sono semplicemente In un angolo sott'acqua E secondo me Non è una buona idea Capito? No non credo niente È proprio pessima Secondo me tu ti sei seduto A giocare la carta sott'acqua In un altro round Anche se Eh vabbè Mi sono emozionato Ho bevuto subito la pozione Ma ce l'avevo Capisci? Eh comunque Sappi che almeno È faticoso cercarti Perché io devo stare attento Alle bollicine Quindi Oh cavolo Pure io faccio bollicine No vabbè Cioè va bene In effetti faccio L'effetto della pozione Spero non si veda fuori Porca miseria Nel blu Si vede davvero poco Poi se penso a quanto piccolo ero io Vengo trovata subito Sono particolarmente preoccupato Allora però secondo me Lei è una signorita Che va vicino al ponte Infatti non so perché Stavo controllando prima Tutto il resto Quindi mi avvicinerei più qua E controllerei tutta la zona limite Hai avviato il timer? Sì cara Siamo a un minuto di tre Ok A posto Guarda come sta pensando Ha paura Comunque la cesta era sotto il ponte Si vedeva un blocco più scuro All'ombra non è che si notava parecchio Però l'ho cliccato E era la cesta Porca miseria Poi non so se ce ne sono altre Però era lì Allora Ti dico la verità Inizio ad essere preoccupato Inizio ad essere molto preoccupato Cioè mi vedi molto secondo me Fere no Fammi vedere con F5 Proprio Nulla vedo Nulla di nulla Abbastanza secondo me Ok Abbastanza visibile Cioè sto risuperando il ponte Ma se devi avere in acqua Non mi è trollato Per farmi perdere tempo Sono sincera Sono in acqua Eh non si sa mai Non ti posso dire la zona Perché è già un grande indizio Sapere che sono nell'acqua E non devi controllare nient'altro Però sono in acqua Ok Quanto mi dura ancora sta pozzanale? 8 minuti Puoi stare tranquilla 5 minuti Quindi tutto a posto Ok Cavolo Ho soltanto un minuto raga Porca miseria La sapevo che era fortissima Quella pozione Però si è trovata la cesta Quindi se la merita Eh certo Ho puntato subito a quella A trovarla Infatti l'ho trovata Sto continuando a costeggiare Tutto il tempo E non ti vedo Beh forse in effetti Sono tanti gli angoli Da controllare No ma che Allora la porzione di acqua Non è tantissima Perché poi da una parte All'altra si è bloccato Dei blocchi invisibili Non è che devi controllare Tutto il mare Capisci? Gli angoli saranno Un centinaio Però Vedi che però Quando mi vedi Mi vedi Vedevo le bollicine Vedevo le bollicine Te l'ho detto Che si sarebbero visti Gli effetti Vabbè Comunque ti ho trovato A 2,40 Vabbè No no Infatti vale Guarda le bollicine Sì Vedi Terribi Infatti io ti ho detto A un certo punto Quando le ho notato Ho fatto Cavolo ma queste Mi fanno sgamare Tutta la vita Ti sono passato di fronte Prima Quindi Fatto sta Che la notti Quando ci passi vicino Quindi comunque Non è nascondito Vabbè dai è valido Come round Io comunque Me la sono voluta Giocare in acqua Quindi ci sta Rischio e pericolo Mi hanno tradito Ma spero che mi passi Comunque Perché mi stanno Rimanendo parecchio Vabbè vai Nel round in cui cerco Mi dovrebbero passare Quindi non è un problema Vai Allora Non sto guardando Sono in un albero Brava Potrei Che sai cosa ti inventi adesso Perché la carta delle bottiglie Non te la puoi rigiocare Secondo me era Il nascondiglio più semplice Il migliore che c'era Secondo me Anche secondo me Infatti sono Allora davvero cattivo Particolarmente preoccupato Però Boh Dai Penso di aver trovato Un altro bel nascondiglio Allora sei pronta Sì Ok E via Ovviamente Se adesso mi trovi Possiamo anche valutare Di fare un altro round Ma se non mi trovi di nuovo E ti faccio il 2 a 0 Concludiamo qua Il nascondino Della spiaggia E accettiamo tutto il fatto Che sono più forte di te Ma stai zitto Proprio secco E palese Solo una fortuna Sfacciatissima Mi hai visto con le bollicine Fortuna Fortuna L'avrei vinto quel round E vabbè Grazie al cavolo Sai quanta acqua c'è E quanto rallenta A camminare nell'acqua E quanto piccola Potevi essere Poi in un blu Che fa scomparire tutto Stai zitto Va Stai zitto Cioè le bottiglie Le stai controllando raga Non si fila proprio di me No perché sei un infame E non mi dobbiamo Infidare Secondo me sei Ok Allora Vuoi vedere Dimmi cosa stai controllando Sono curioso Cosa Il ponte Il ponte Perché secondo me ti sei nascosto qui dietro da qualche parte Perché hai un buon nascondiglio Ci sta una buona teoria Nel senso Comunque Credo sia uno dei migliori nascondigli che c'è Però non sei qua Ci sono anche però Eh non te lo dico Perché sei lì Dove? Nel posto che stavi per dire Esatto Un minuto su tre Perché comunque a tante parti È fatto molto di slab il ponte Quindi a tante parti Secondo me l'ha fatta apposta lui vero? Esatto L'ha proprio pensato Sì sia sopra che sotto Ti ci puoi infilare dietro E quindi secondo me è giusto dargli un'occhiata Ha fatto bene a farlo Infatti sembra una mappa con pochi nascondigli Però con la grandezza 1,16 Certo Che è molto piccola Può andare ovunque Ovvio Già 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 Ah Metà del tempo è passato Non ci si può stare Metà del tempo è passato Comunque Io allora ti dico Non l'ho usato alla fine Però era una cosa che avrei voluto fare Abbiamo anche dei blocchi di sabbia Ah guarda l'altra cesta Qui sotto Ah L'hai vista? Era raga Lo sto vedendo Lo schermo di ferie Nella società di piccola costruzione arancione Non so bene cosa sia Sembra tipo una sorta di gazebo È un gazebo Tipo un chiosco Ecco non mi veniva un chiosco Era lì super nascosta Non si vedeva minimamente Quindi davvero nascosta e bene le due ceste E cosa ti stavo dicendo? Non so se ce ne sono altre Non lo so Steph Anzi che ci ha dato anche i blocchi di sabbia Perché così avremmo potuto fare Parkour da qualche parte Diventare piccoli in alto E poi distruggere tutto Però ti dico Non l'ho usato alla fine Ok Perché avevo paura di metterci troppo tempo Non riuscire a staccare la sabbia Oh cavolo Non rivedo dove tu possa essere Due minuti e ventitré Venticinque Cavolo La so Eh sai L'1.16 l'abbiamo usato raramente Esatto E il tuo occhio non è abituato Noi usiamo sempre l'1.8 Quindi questa è la metà di quello a cui siamo abituati Sei davvero microscopico Faccio vedere raga guardate Non ci sono nella mappa Guarda Non ci sono minimamente Allora 2.45 quindi te lo posso dire Sono nel ponte Ovviamente Dove però Mi sei proprio passata di fronte prima Sì sì ma ho guardato tutto infatti No no mi sei passata totalmente di fronte Quando hai diventata piccola Tu eri esattamente di fronte a me E non mi hai visto No è troppo piccola Dove sei? Allora Ecco Vai tutto dritta Qui? No Torna lì E vai tutto dritta Ma io l'ho fatto qua tutto dritta No 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 Ti sei fermata un bel po' prima Continua Vabbè cavolo stavo guardando due ore al ponte Io sono di fronte a te in questo momento Cioè ma come è possibile Guarda mi vedi? Sì ma ma la pena solo perché so che sei lì giù Cioè probabilmente cercando così non ti avrei notato lo stesso Ciao cara No è troppo Cioè guarda come sono io Io sono un 8 Cioè guardate la differenza comunque Sì sono la metà di te Sei un mio piede È impossibile La metà di te È normale Cioè non so che è esattamente Infatti guarda io sono entrato da qua però Capito? Se tu fossi entrato da qua a controllare Girando a sinistra mi avresti visto subito Dovevo essere veloce Dovevo essere veloce Perché sennò avrei perso tutti i tre minuti nel ponte Non l'avrei perso Quanto sono stato bravo a far finta Ah il pop Buona idea È schifo Sono stato bravo eh Voglio fare un altro round No Dai No Fede L'ultimo Fede ti ho surclassato Dai Tu ti nascondi e io stacco Ho trovato un altro nascondiglio bello Lo posso fare? Fammelo vedere dai No Dai dai Dov'è su? Vieni Mi stai seguendo Sì Ok Voleva arrampicarmi in una pienta qualsiasi Tipo questa E diventare piccola No tipo qua Guarda aspetta eh Prima ce l'ho fatta cercando Ti metti qui sopra Aspetta Ah Qui sopra il frutto Secondo me si diventi Vabbè Sono cascata di sotto Però hai capito Quello che volevo dire Molto forte Quello era bello Infatti mi sarei voluta mettere gli accidenti Se l'avessi pensato prima Non avrei dovuto fare quello sott'acqua Che è stato totalmente inutile In ogni caso Tieni la pozione Che fa schifo Speriamo che la Nascondino Spiaggia di Sean Mini Vi sia piaciuta Qua sotto come sempre Comparirei in altri video Ringraziamo Eni per questa fantastica mappa Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao